Buongiorno a tutti e benvenuti a questo spazio dedicato alle interviste. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessia Buiatti, persona abbastanza ritrosa di fronte alle telecamere, vero Alessia? Sì, è molto esclusiva questa concessione odier. Alessia Buiatti che è collega giornalista, è moglie, mamma di due bambine, insegnante, per molti anni ha detto stampa, capo dell'ufficio stampa di Confindustria Belluno Dolomiti, per quanti anni Alessia? Una decina. Una decina, ormai parecchio tempo fa, ma l'abbiamo qui in veste del tutto, no del tutto inedita perché ormai c'è perfino un passato in questo, ma l'abbiamo qui come autrice perché lei ha sempre coltivato la passione per la letteratura e adesso ce la ritroviamo come autrice di film, di cortometraggi. Proprio di recente avevamo dato la notizia, anche l'avrete letta sul sito dell'Amico del Popolo, che un suo lavoro in questi giorni è stato presentato a Roma nell'ambito di una rassegna dedicata proprio ai corti, dico giusto Alessia? Sì, sì, i corti a scuola sono iniziative che sono comunque sostenute a livello italiano da diversi festival per riuscire a realizzare all'interno dell'ambiente scolastico, quindi con le classi come insegnante, un cortometraggio dall'inizio alla fine, cioè dall'ideazione fino al montaggio finale, i titoli di coda compresi e anche un po' la strategia diciamo di diffusione. E tu questo corto l'avevi girato con regista Lorenzo Cassoglio, di Bellunese, di Santa Giustina, e l'avevi registrato con i ragazzi dell'Istituto Da Vinci, vero? Esatto, io ho insegnato fino all'anno scorso appunto a Leonardo Da Vinci la classe prima delle scienze umane, quella che appunto si proietta, vesto non soltanto la comprensione dell'uomo, ma anche la comunicazione fra soggetti nella società interpersonale, aveva attivato questo corso nuovo Comunicazione Multimediale. Portando questa mia esperienza nuova, però comunque già abbastanza radicata nell'ambito cinematografico, abbiamo deciso di, insieme alla classe, perché ho proposto la classe tra percorsi, uno più giornalistico magari, uno più pubblicitario e il terzo cinematografico, loro ovviamente, poi quando è stato il momento di decidere gli attori è stato un problema perché si sono resi conto che in effetti avrebbero dovuto recitare una parte che in alcuni casi era un po' scomoda perché il tema scelto per questo cortometraggio era un tema sociale, abbiamo deciso non di parlare magari di natura o di politica, abbiamo deciso di toccare un tema che fosse il loro vicino, quindi quello dell'omosessualità in un'età adolescenziale. In cui si scopre magari la sessualità, quindi insomma molto delicato, poi anche a scuola immagino, quindi un tema delicato, sì effettivamente. E c'è questa rassegna romana in cui avete avuto la soddisfazione di vedere il film selezionato e quindi proposto al pubblico della capitale. Adesso vedremo come va nelle prossime settimane. Perché c'è anche un premio e non è detto che riusciamo anche a salire sul palco dei vincitori, ma in realtà ti abbiamo invitato qui perché siamo nei giorni della presentazione, è stata fatta la conferenza stampa di un altro lavoro, di un'altra grossa soddisfazione che hai avuto perché qui sì c'è un premio praticamente, perché Alessia è l'autrice di un nuovo lavoro che verrà realizzato a breve, una produzione che comincerà subito, ti piace di più il tramonto l'aurora, battutona. Sai che è difficile decidere, però come i periodi del giorno entrambi, eviterai le ore centrali. Eviteresti le ore centrali. La battuta ci stava perché questo lavoro si intitolerà proprio l'aurora. È un lavoro dedicato alle donne, ma dici tu di che cosa si tratta Alessia? Ma è successo questo sempre con Lorenzo Cassol con cui è nato questo feeling proprio professionale, insomma dai banchi di scuola devo dire. Abbiamo pensato leggendo proprio le locandine dei giornali, quindi sentendo parlare di violenza sulle donne in modo veramente molto diffuso e i dati aperti e chiusi a parentesi sono preoccupanti perché non cala assolutamente nei confronti dei minori ma anche delle donne, insomma di tutte le estrazioni sociali, di tutti i punti d'Italia, insomma, che si possono andare a individuare e abbiamo deciso di parlare di questo tema. Io ho steso un soggetto ancora un anno e mezzo fa e la fortuna diciamo è... il nostro gruppo di lavoro è molto affiattato quindi abbiamo subito deciso che era quello giusto e la nostra fortuna è stata incontrare una persona che ci ha sostenuto il progetto, anzi due persone, una da un punto di vista proprio di lavoro sulla violenza contro le donne e l'altra da un punto di vista produttivo e hanno permesso di partecipare ad un bando del Ministero per opportunità. Allora la prima persona è Tiziana Carnevale, spazio donna Onlus a Caserta, anche questa cosa mi piace molto, noi siamo praticamente nella punta, non proprio nella punta però nel nord-est d'Italia e abbiamo insomma alcune differenze notevoli ma siamo riusciti a collaborare benissimo da un punto di vista umano e professionale con un'associazione del sud Italia che ha tutt'altra tematica sentita sulla pelle ecco, lì le donne le picchiano veramente, qui da noi una violenza più forse psicologica anche emotiva molto spesso e molto più diffusa. Dopodiché abbiamo proposto a Kublai Film, a Lucio Scarpa di Venezia di sostenere il progetto di produrlo, lui è molto attivo in ambito sociale da un punto di vista cinematografico quindi ci ha detto subito di sì, abbiamo steso il progetto e abbiamo partecipato ad un bando appunto della presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per opportunità e mi ricordo era agosto, ero in vacanza alle otto e mezza del mattino prendo questa telefonata casertana a lei abbiamo vinto e non ci credevamo perché insomma sembra una cosa e invece il progetto è stato molto valorizzato a livello centrale appunto romano sia per la storia, dopo magari qualcosina a livello ma non troppo, sia per la storia sia però anche per il progetto di diffusione, cioè l'idea è di portare, l'idea ormai è un progetto approvato, quindi si farà così, portarlo nelle scuole, portarlo all'ordine dei giornalisti, faremo formazione ai giornalisti all'interno del programma appunto formativo delle 30 ore annuali eccetera e poi parteciperà alcuni festival e poi sarà appunto diffuso il più possibile online proprio perché se ne discuta, se ne parla, sia visto e soprattutto susciti qualcosa a livello emotivo ecco. Allora nella presentazione che avete fatto l'altro giorno avete scelto Feltre perché le riprese saranno fatte a Feltre e cominceranno tra poco, tu hai un legame particolare con Feltre perché Alessia è di origine trevisana penso sei tu, di conegliano però ha studiato a Feltre, ha studiato all'università di Feltre e da lì era stata presa, visto i suoi talenti direttamente da Confindustria perché tu hai finito l'università e sei subito entrata come ha detto stampa a Confindustria però Feltre appunto la conosci bene, è stato il tuo primo approccio con Belluno, ecco con la nostra provincia, con il nostro territorio. Le riprese quindi le farete lì e saranno i primi di maggio, no? Sì, sì. Allora Feltre rappresenta uno dei centomila borghi d'Italia, questa è la ragione diciamo razionale per cui abbiamo scelto quella città, appunto non Padova o Treviso eccetera capoluoghi di provincia ma un borghetto nel quale ci siano delle relazioni ancora molto vicine, molto strette di comunità però anche tutto l'aspetto negativo di questa comunità che è appunto il fatto che magari non riesci a liberarti di quelle relazioni per cui ti incasellano ecco e penso che l'esperienza di molte persone vada in questo senso e quindi ci si possa riconoscere. Oltretutto da un punto di vista scenografico, fotografico, bellissimo. Esatto, moltissimo. Le faremo, le riprese faremo a Feltre Città proprio al centro storico e anche a Villa Guarnieri a Tomo e per questo ringrazio Enzo Guarnieri perché veramente è una persona deliziosa disponibile al cento per cento e dal 5 al 9 maggio. Avremo comunque delle riprese in esterna in un'altra località per caratteristiche proprio fisica che non siamo riusciti a trovare qui e adesso non svelo tutto perché sennò... No, lasciaci un po' di curiosità. Nel maggio, esatto. E a Feltre farete anche i cast vero perché non è ancora definito? Allora abbiamo il cast principale, è già definito, sono tre attori protagonisti e professionisti nell'ambito sia teatrale che cinematografico. Margherita Mannino sarà la protagonista Aurora e Sara Lazzaro sarà la sua migliore amica e Francesco Wolf sarà Federico e rappresenta diciamo un amore ancora non sbocciato ecco fra la protagonista e un amore potenziale ecco. E poi invece stiamo cercando e con il produttore e il regista si discuteva della possibilità appunto di aprirla sul locale, stiamo cercando altre tre figure che invece fanno parte della famiglia di Aurora, il padre, la madre e la nipotina. Sarebbe bello che potessimo appunto pescare fra i nostri volti fra le nostre personalità e non sarà facilissimo perché sono comunque soprattutto ruolo della madre e del padre ruoli recitati nel quale bisogna avere un'esperienza nel campo, bisogna essere attori, non è possibile improvvisare e basta. Anche attori di teatro. Però abbiamo deciso di aprire il casting non soltanto alle comparse, ci serviranno parecchie comparse ma anche appunto questi tre ruoli importanti. Sul sito di Kublai Film, Kublai K e la I normale, si trovano le informazioni relative al casting e poi comunque noi le diffondiamo anche attraverso i nostri profili. Quindi chi fosse interessato è ancora in tempo per... 13 aprile il casting. 13 aprile il casting a Feltre. A Feltre in Sala Ocri dalle 9 alle 18. Beh allora l'abbiamo già detto insomma ok? Per chi fosse interessato provare a partecipare a questa esperienza, 13 aprile Sala Ocri dalle... mi hai detto? 9 alle 18. Dalle 9 alle 18 tutto il giorno. Alessia quanto dura un corto? Quanto durerà il tuo corto? Durerà intorno ai 17 minuti. I 15 minuti diciamo sono un minutaggio considerato già importante per i cortometraggi, potrebbe arrivare fino ai 30 e certo mantenere la curva di attenzione, no? Non è un film lungo quindi si vede in contesti e in situazioni diverse, non sei sul divano di casa che te lo guardi la sera, quindi diciamo fra i 15 e i 20 minuti diventa proprio il limite, però è proprio una storia. Noi giornalisti siamo abituati per lavoro a cercare anche la sintesi, però riuscire a raccontare una storia, riuscire a trasmettere delle emozioni in un quarto d'ora non è proprio facilissimo. Allora, ti dirò che sono arrivata alla versione 10 dell'Aurora, cioè dalla prima di un anno e mezzo fa e non sono modifiche, sono modifiche significative, grazie a tante persone che mi hanno aiutato, Lorenzo Cassoli in primis, Lorenzo Pestano, il direttore della fotografia che ha sempre seguito ogni mia versione e Andrea Zuliani, un aiuto regista però anche uno sceneggiatore, tante persone mi hanno detto, ma qui sei proprio sicura? Ma qui secondo te è corretto dare questo messaggio? e quindi insomma la prima reazione è sempre stata un po' rancorosa, no? Tipo, va bene così. Mi stai toccando la mia creatura. E invece poi la notte porta consiglio e in molti casi hai dovuto e voluto accogliere i suggerimenti. Siamo arrivati a un minutaggio minore, una storia più asciutta però ha lo stesso significativa e diretta, ecco, molto... Però qui svelo un altro altarino, credo, no? Tu quando eri un po' più giovane... No, proprio per la tua passione per la letteratura, ma per la poesia... Lo sto facendo, dai che ce la faccio. E tu avevi avuto anche un particolare rapporto con un grandissimo, con Andrea Zanzotto, vero che mi raccontavi? Avevi potuto conoscerlo e anche avevi potuto lavorare, no? Un po' sotto la sua sorveglianza, anche diciamo così. Sì, Andrea Zanzotto l'ho conosciuto nel 2002 appunto per redigere la tesi di laurea, è stata un po' una piccola sfida quella volta fra la Nella Giannetto, adorata Nella Giannetto, che è stata la mia relatrice di laurea, adesso non c'è più purtroppo, in letteratura italiana. E io, lei diceva che assolutamente non ce l'avrei fatta, a intervistare Zanzotto, perché effettivamente aveva questa nomea di essere un uomo schivo, misantropo e comunque molto difficile. E' stato effettivamente difficile arrivare da lui, però mi ha aperto qualcosa veramente a livello così di sensibilità poterli parlare. E noi abbiamo passato insieme poco tempo, un paio di pomeriggi, il primo pomeriggio proprio... E lì tante volte ho pensato, perché poi ho perso la cassettina dell'intervista. Aia! Cioè io anche io... Quelle cose che fanno gli studenti. Quelle cose che dici non è importante, ho fatto 50 traslocchi, chissà dove sarà finita. Invece oggi, però allo stesso tempo quelle immagini, quelle parole sono... Mi hanno proprio cambiata, ecco, al di là della retorica. E quindi adesso mi avevo scritto una piccola intervista che ho ottenuto per me, perché mi sembrava era talmente comunque così personale, anche il rapporto che si era creato. Un po' come un nonno con una nipote, un nonno che però voleva passare il testimone, ecco, lui voleva passare il testimone. E io non mi sentivo degna di questo. E di conseguenza ogni volta che mi diceva, ma lei è quella fogliolina della poesia. Io dicevo, ma che, ma che, sono una pubblicitaria, non ho scrupoli, non è vero, non sono così. Avevo 23, 24 anni. E oggi lo sto riscoprendo, ecco. Oggi vorrei rendergli onore, anche perché penso davvero che ci sia bisogno di poesia, anche in un'immagine, ecco. Non serve che sia per forza un verso. Adesso, Alessia, per non fare di questa intervista una cosa più lunga del tuo corto. Ecco, per quanto siamo? Non so, ma non importa, il bello dei social è questo, possiamo andare avanti quanto vogliamo. No, però se sei in grado di farci qualche anticipazione sulla trama, se vuoi, se ritieni. E poi mi interessa anche capire per quando pensate che sia pronto e diffuso. Allora, noi ci siamo dati una scadenza di diffusione, quindi è il 25 novembre 2019, è la giornata internazionale della violenza contro le donne, quindi... Caspita, quindi ce la fate a girarlo, montarlo e tutto... Lo giriamo entro maggio, perché appunto abbiamo... Per averlo pronto a fine novembre. E poi lavoriamo appunto sul montaggio, che è comunque una fase anche artisticamente importante, delicata, per riuscire ad averlo pronto il 25 novembre e anche l'aspetto promozionale, formativo, quindi andremo anche nelle scuole. Ci sarà un sito dedicato all'Aurora, un sito internet, quindi con il cortometraggio, anche con tutti i backstage, eccetera. L'Aurora è un giallo psicologico, un po' un giallo psicologico, ha una protagonista, che è una donna fra i 30 e i 40 anni, che sta bene, che è bella, che ha la sua vita, che ha una persona con cui sta insieme, però ha dei segnali di malessere. Devo dire un po' come tutte le donne di questa età, insomma, i suoi segnali si manifestano all'esterno, ecco, sulla pelle. Ha un rapporto conflittuale comunque con i genitori in famiglia, però è di odio e amore, ecco, non completamente conflittuale, è infelice, è evidentemente infelice, nonostante all'apparenza non lo sembri. Durante il corto si capisce quali possono essere le ragioni di questa infelicità e la ragione principale, diciamo, per cui lei soffre però è il fatto di dover fingere, quindi di non avere attorno a sé amici, amiche, familiari, qualcuno che veramente si metta a disposizione di comprendere, di ascoltare davvero, ecco. È quello che mi raccontava Tiziana Carnevale, succede a tutte le donne. Perché non denunciano? Perché non se ne vanno? Perché parlano con le forze dell'ordine, piuttosto che la madre o un'amica, però tutte quante bene o male mi dicono dai, dai, l'uomo mi sono fatto così, dai. E quindi questo clima di mancato ascolto, ecco, bastano le orecchie chiuse, una mano non tesa per farla rientrare in casa e sopportare, ecco. Ho capito. Allora grazie per quello che ci hai detto. Grazie a te. Ti facciamo le congratulazioni perché, insomma, intanto da Roma, dal Ministero, è già arrivato questo riconoscimento, il testo è piaciuto ed è un grosso incoraggiamento, anche penso a continuare, no? Grazie, Cicci. E poi adesso, appunto, speriamo che vadano bene i cast che fate e le riprese e tutto, insomma, quindi... Vi aggiorneremo. Poi, appunto, sarai nostra ospite ancora, magari ci racconterai come va il lavoro, va bene? Grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Grazie, ciao.